In provincia di Pescara si stima che siano approssimativamente tra 5 e 7 mila i lavoratori non ancora vaccinati nella fascia d'età compresa tra 50 e 64 anni. Uomini e donne per i quali dal 15 febbraio è scattato l'obbligo di esibire il Super Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Pena la sospensione senza stipendio fino al 15 giugno, quando cadranno le restrizioni legate all'obbligo della certificazione verde rafforzata da vaccino o guarigione attualmente in vigore per i lavoratori ultra 50 anni. Ultima spiaggia per questa fascia di popolazione irriducibile è la corsa all'esenzione dalla vaccinazione per incompatibilità legata a particolari patologie, che però, spiega il dottor Rossano Di Luzio, referente della campagna vaccinale della Asla di Pescara, non sempre può essere accolta. Ci sono diverse persone che si presentano negli hub vaccinali portando tutta una serie di certificati e chiedendole esonero. Naturalmente i medici degli hub vaccinali fanno le dovute considerazioni su queste certificazioni e poi o provvedono all'esonero o dicono all'utente che le patologie non rappresentano un problema per la vaccinazione e che quindi possono vaccinarsi. Quali sono esattamente le motivazioni che sono la base di queste richieste? Le patologie per cui è possibile sono sono veramente pochissime, le situazioni cliniche sono veramente molto molto poche. Diciamo che è un tentativo per molti di cercare di bypassare con l'esonero la volontà di non vaccinarsi. Chi è che può rilasciare queste certificazioni? Adesso dal 4 febbraio c'è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dice che queste certificazioni di esonero o definitive o temporane possono essere rilasciate o dal medico del lab vaccinale o penso che sia ancora meglio perché effettivamente il medico che conosce di più la situazione del paziente dai medici, medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Quali sono effettivamente le persone che possono avere un'esenzione? Quali sono le patologie per le quali il vaccino è sconsigliato? Le patologie per le quali il vaccino è sconsigliato sono veramente pochissime, si possono elengare su una mano sola. Sono l'allergia ai componenti del vaccino ma allergia documentata per cui tutti coloro che soffrono di allergie come acari, polveri eccetera eccetera non hanno nessun problema all'assunzione del vaccino. Poi ci sono altre patologie neurologiche e cardiologiche ma anche qui la valutazione è fatta dal medico vaccinatore che può essere o il medico del lab o il medico di medicina generale. In provincia di Pescara quante sono le persone dopo i 50 anni che non sono ancora vaccinate? Non è possibile fare una stima precisa delle persone non vaccinate e che hanno necessità del Green Pass con il vaccino perché molte di queste hanno avuto la patologia o la positività al Covid per cui anche queste hanno il Green Pass che dura sei mesi. Penso che, ed è una stima naturalmente, che siano intorno alle 5-6 mila persone, persone che ancora devono essere vaccinate tra la fascia di età lavorativa, cioè tra i 50 e i 64 anni di età.